cari amici di stream hardware ciao a tutti oggi ci troviamo in compagnia di asus phonepad not 6 per questo video unboxing la serie phonepad di asus nasce come una serie di dispositivi a metà strada tra il tablet e lo smartphone si tratta in sostanza di phablet e questo dispositivo dotato di processore intel dual core da 2 gigahertz e dotato anche di 2 giga di ram si va ad inserire in una fascia di mercato che sino ad ora era sostanzialmente dominata dai dispositivi samsung della serie galaxy note andiamo a dare un'occhiata quindi a quella che è la confezione sul lato superiore come potete vedere c'è una bella illustrazione di quello che è il dispositivo sul lato sinistro abbiamo il logo intel che ci ricorda la presenza appunto di un chip intel in questo dispositivo abbiamo poi le due colorazioni disponibili quella bianca e quella nera in questo caso andremo a testare la colorazione nera sul lato inferiore abbiamo tutti i dati relativi al dispositivo apriamo quindi la confezione troviamo subito il phablet che mettiamo un attimo da parte nel resto della confezione abbiamo la classica manualistica due piccoli manuali abbiamo l'alimentatore immancabile da parete anche se in questo caso non è quello in versione italiana come potete vedere dalla presa abbiamo le cuffie di tipo in ear ovviamente a marchio asus abbiamo quattro graditissimi gommini di ricambio per gli auricolari e infine troviamo il cavetto usb micro usb tornando al dispositivo come vedete protetto da una pellicola e da questa infografica che ci permette di illustrarvi le prime caratteristiche tecniche prima di tutto il display è un 6 pollici con tecnologia super ips più con risoluzione full hd quindi 1920 x 1080 abbiamo la possibilità di utilizzare un pennino come potete vedere da questo da questa illustrazione e soprattutto possiamo con questo dispositivo a metà tra lo smartphone e il tablet effettuare chiamate perché possiamo utilizzare una scheda sim nello specifico una micro sim togliamo la pellicola e andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche vere e proprie del dispositivo da un punto di vista fisico partiamo dal lato destro dove troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume scorrendo su quello sinistro abbiamo invece lo slot che ci permette di inserire la micro sd e la micro sim controllando invece i lati superiore inferiore vediamo lo jack per tra le cuffie da 3.5 troviamo poi il piccolo microfono il la porta micro usb e questo piccolo vano in cui è alloggiato il pennino per utilizzare il dispositivo come vedete si è già acceso era già acceso questo perché quando si rimuove il pennino lo schermo si accende automaticamente spegniamo un secondo ma vi faccio notare la presenza di un doppio speaker frontalmente la decisione di porlo frontalmente e secondo me adeguata in quanto permette di non avere ricadute sulla qualità audio nel caso in cui si poggi appunto il dispositivo su una superficie piana come un tavolo per esempio accendiamo lo schermo questa è la schermata di disblocco come potete vedere l'interfaccia è assolutamente assolutamente classica si tratta di un launcher normalissimo a dire la verità mi pare anche abbastanza fluido dai primi momenti la versione di android se non sbaglio è la 4.2.2 come detto il processore è un intel atom z 2580 dual core con clock di 2 gigahertz la memoria ram a bordo e di 2 gigabyte la memoria interna è di 16 o 32 gigabyte espandibili fino a 64 gigabyte tramite la tramite la micro sd abbiamo una batteria da 3.200 miliampere una fotocamera che non vi ancora fatto vedere eccola qua da 8 megapixel come potete vedere senza flash led una fotocamera frontale eccola qui da 1,2 megapixel le specifiche sono sono queste nei prossimi giorni andremo a testare questo questo dispositivo e vi proporremo la nostra recensione a presto